Oggi vediamo un tutorial veloce per preparare insieme un unguento per irritazioni e dermatiti. Quindi mettiti tranquilla e rimani con me fino alla fine del video. Ciao a tutte e benvenute sul canale di Consapevolistico. Io sono Deborah e come sempre dietro la telecamera c'è Alberto. Prima di passare al video vi ricordo di iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto, di seguirci anche sui nostri social Instagram e Facebook e di visitare il nostro sito www.consapevolistico.com per tantissimi consigli e ricette di benessere e bellezza naturale. Nel video di oggi vediamo come preparare un facilissimo unguento che va bene nei casi di irritazioni, dermatiti e anche per eczema. Andremo ad usare ingredienti che sono linitivi, antinfiammatori, cicatrizzanti e anche antisettici in modo da poter prevenire contemporaneamente anche magari eventuali infezioni proprio nella zona in cui la pelle magari si trova irritata e quindi più esposta a questo tipo di problematiche. Per quanto riguarda gli ingredienti vi lascio le quantità in descrizione al video come sempre insieme anche ai link utili per andare ad acquistare le materie prime che vi serviranno e anche i nostri codici sconto che potete utilizzare per risparmiare. Prima di lasciarvi il tutorial vi ricordo che se volete approfondire l'argomento bellezza in Ayurveda potete dare un'occhiata al nostro corso online bellezza integrale Ayurvedica e se volete ricevere l'indice con tutti i vari dettagli potete mandarci una mail all'indirizzo che vi lasciamo qui sotto in descrizione al video. E adesso finalmente vi lascio il tutorial. Allora partiamo mettendo il burro di cacao a fondere a bagnomaria a fuoco molto molto basso. Una volta che vediamo che il nostro burro di cacao si è completamente fuso andiamo a spegnere il fuoco e aggiungiamo il burro di mango oppure il burro di karité. Mescoliamo Questo lavoro si fa a fuoco spento. Grazie 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 Ora andiamo ad aggiungere anche l'ossido di zinco e mescoliamo ancora e mescoliamo ancora Tutti gli ingredienti si sono ben amalgamati non ci sono più brumetti andiamo a togliere dal fuoco e aspettiamo un attimino in modo che il composto si raffreddi un po' però non troppo altrimenti poi diventa un po' difficile andare ad incorporare gli ultimi ingredienti. Quando la temperatura è scesa Quando la temperatura è scesa un pochino andiamo ad aggiungere gli ultimi ingredienti cioè l'olio litro di calendula, l'olio di nemm e la vitamina E che in questo caso mi sono già mescolata in un po' territorio a parte quindi le andiamo ad aggiungere tutti insieme e mescoliamo ancora e infine andiamo a travasare l'interno di un vasetto il vasetto lo lasciamo aperto finché il composto non si raffredda completamente e poi lo andiamo a chiudere come sempre ad etichettare con nome e data e finalmente il nostro unguento per le irritazioni è pronto ne andremo ad utilizzare una piccola quantità sulle zone irritate e lo possiamo usare anche proprio come prevenzione quindi ad esempio adesso che magari sta arrivando la stagione più calda questo tipo di unguento va bene per quelle persone che soffrono di irritazioni magari da sfregamento tra le gambe oppure sui piedi quindi diciamo che è un buon unguento passepartout se vogliamo che va bene in moltissime occasioni diverse l'ossido di zinco tra l'altro è anche assorbente per cui proprio per questo tipo di problematiche che iniziano con il caldo può aiutare anche ad assorbire il sudore che va ad aumentare le irritazioni e invece per quanto riguarda l'olio di neem lo andiamo ad usare in piccola quantità per prevenire appunto eventuali infezioni che potrebbero manifestarsi su una pelle più sensibilizzata e irritata e quindi anche ovviamente più esposta agli attacchi esterni se non ce l'avete a disposizione non è un problema ma comunque vi consiglio di procurarvelo perché può essere davvero un grande aiuto per tantissime problematiche diverse per quanto riguarda il burro io ho usato quello di mango ma va benissimo anche quello di karité invece l'olio di calendula è diciamo abbastanza fondamentale in questa ricetta per cui in questo caso non vi consiglio di sostituirlo e invece non ho aggiunto gli oli essenziali per scelta personale perché per quanto siano comunque benefici preferisco evitarli in caso di irritazioni però se volete potete utilizzare quello di lavanda che è il più diciamo sicuro e adatto in questo caso specifico bene ragazze per oggi è tutto io vi ringrazio per essere rimaste con me fino alla fine del video se vi è piaciuto e vi è stato utile lasciateci un bel like e scriveteci un commento per farcelo sapere e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video intanto vi mando un bacione ciao